Seconda sconfitta consecutiva per il Verbania che paga Dazio al Natal Palli di Casale per 3-1. Successo meritato dai nerostellati che hanno confermato la propria forza. I ragazzi di Buglio sono quarti in classifica, non troppo distanti dalle prime tre. Bianco Cerchiati invece in piena zona play-out. Il nuovo mister Corrado Cotta dovrà prima di tutto infondere sicurezza alla squadra, apparsa frastornata e fragile psicologicamente dopo le vicende delle ultime due settimane. Casale in gol al ventitresimo, Coccolo imprendibile in fascia, cross per Dilernia che da pochi passi non sbaglia. I padroni di casa hanno diverse chance per raddoppiare ma il 2-0 arriva solamente al ventottesimo della ripresa. La firma è dell'ultimo arrivato, l'ex pro-sesto e pro-settimo di Renzo, che scarta il cioccolatino offertogli dal solito imprendibile Coccolo. Al decimo minuto dalla fine il Verbania ha un sussulto che sembra poter riaprire la contesa, duetto tra Austoni e Pedrabissi, con quest'ultimo che non fallisce beffando Cintoia Rovei per il gol del 2-1. Verbania ovviamente all'assalto e tutto nella metà campo offensiva. E così al novantatresimo, nella più classica delle azioni di contropiede, l'ex pro-patria Kappai chiude i conti, fissando il punteggio sul definitivo 3-1.